Ancora al centro delle polemiche Daniela Santanchè, ministra del turismo nell'attuale governo Meloni, nel registro degli indagati alla procura di Milano per bancarotta e falso in bilancio del gruppo Visibilia che ha fondato e di cui è rimasta socia di maggioranza e amministratrice fino al 2022. Il governo è spaccato, la maggioranza fa quadrato intorno alla ministra, mentre l'opposizione va all'attacco. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia che il PD voterà. Intanto la Santanchè parla di una campagna di odio alle sue confronti, aggiungendo però di essere tranquilla.